Ciao, sono Andrea Gipponi, uno degli insegnanti della scuola di musica del Garda di Lisenzano del Garda. Nello specifico per il corso Academy per musica moderna, sono il docente per tutto il biegno per il corso di basso elettrico e per il corso di Air Training in teoria e armonia moderna del primo anno e di teoria ritmica e percezione musicale del secondo anno. Ti aspettiamo a settembre 2021, per tutte le informazioni ti rimando al sito internet della scuola o alle pagine social o al link in descrizione. Ciao!